La mater matuta che abbraccia nel suo grembo l'intero ventaglio di simbologie relative alla nascita dell'uomo superando le barriere di spazio e tempo è il tema della mostra Da me al cielo eterno assoluto con le opere di Mario Schifano e Gennaro Vallifuoco nel Castel dell'Ovo a Napoli fino al 9 gennaio. Promossa dal Comune e assessorato alla cultura e turismo, la mostra è la terza tappa del percorso curato da Davide Caramagna. Questo è un percorso di due anni che entra in una tappa che porterà avanti questo tema che è iniziato da un punto di vista espositivo con il Pio Monte della Misericordia. Poi presentando il progetto al Comune di Napoli, che ringrazio per ospitarci in queste sale, stiamo preparando un 2020 con delle tappe che porteranno le mater matute fino a Berlino per farle conoscere ancora di più questo patrimonio culturale che detiene la campagna. Esposte 14 opere delle 28 del ciclo mater matuta di Schifano prima di essere collocate nella sede della Fondazione Pescara Abruzzo in esposizione permanente e altre 60 opere di Vallifuoco centrate sul medesimo tema. Il mio modo di aver attualizzato la mater matuta è stato quello di leggerla come una soglia, una porta di luce per la luce prima della luce. Mater matuta vuol dire madre del mattino e io attraverso gli strumenti della figurazione vittorica, classica, attenta al raggiungimento della trasfigurazione, ho cercato di recuperare quel momento precedente alla luce prima della luce, che è il momento della nascita. La mater matuta nella lettura dei promotori dell'evento trascende il flusso della storia realizzandosi come un mito immutabile.